Allegri out! Allegri out! Allegri out! La Juve fa schifo! Non giochista risultatisti! Vaffanculo! Sì, sì, fate schifo voi juventini! Scusate, scusate non volevo ma... Sono entrato nel Discord server di Apsim. Uff, è stata dura ragazzi. Io pensavo che accettassero solo gli Allegri out, invece di proprio essere anti-juventino e basta. Non era facile, non è stata facile ma... Ho portato a termine la missione e ho scoperto delle informazioni molto molto interessanti. Ma prima di andare su Discord, intanto vi saluto. Buongiorno a tutti, scusate per l'introduzione ma era doverosa per quello che vi sto per dire. E cioè, è un periodo che la Juve vince. E questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema per la comunità di Apsim. Infatti, ultimamente noto che tra i commenti dei video sotto i video di Apsim e ho visto anche ragazzi il Discord di Apsim, mi sono iscritto, ho visto che non circola una buona aria. Ecco, ci sono alcune persone che si iniziano a fare domande, ci sono alcune persone che non sono più tanto contente di questa propaganda anti-allegriana e anti-juventina. Insomma, ci sono delle cose che la gente sta iniziando a porsi delle domande. Ieri ho notato che Apsim ha pubblicato sul suo profilo YouTube un post. e comunque ho visto, aveva tantissimi mi piace, le sono andato a vedere. Ho notato che ci sono stati alcuni commenti di abbonati e iscritti al canale di Apsim che mi hanno fatto piacere. Perché mi hanno fatto piacere? Perché ne voglio parlare? Perché ho notato che le cose che vengono dette dai suoi stessi abbonati sono le cose che dicevo io più di un anno fa. Bene, prima di andare a leggere i commenti, che ovviamente non citerò queste persone per privacy e per rispetto, e diciamo che voglio andare prima a leggere il post che ha scritto Apsim e lo commentiamo insieme. Quindi partiamo subito e andiamo a leggerlo. Allora, il post cita testuali parole. Da qualche giorno il mio canale e la mia community sono oggetto di un attacco mirato, orchestrato da qualcuno. Manie di persecuzione? O c'è veramente qualcuno dietro? A voi, lascio intendere. Per la precisione, oltre ai dislike preventivi ai video appena pubblicati, specie quelli che non trattano minimamente della Juventus, sto ricevendo commenti fuori contesto che sembrano preconfezionati per muovermi dalle critiche infondate. Ecco, sui dislike... Mea culpa, scusami. Citando fatti non veri o situazioni inesistenti. Quindi, vabbè, quasi sempre a tema Juventus, sotto video che parlano di tutt'altro. Io vorrei ricordarti che le maglie della Juventus ce le hai te dietro, quindi magari per qualche Juventino rappresenti, anche se da ex tifoso Juventino, sì, una parte della Juventus, ecco. Inoltre, tralasciando il giochino ridicolo di quelli che se parlo di Juventus scrivono ma non avevi detto che non parlavi più di Juventus, mentre se non ne parlo scrivono come mai non parli di Juventus? Allora, io qua, Afsim, ti voglio spiegare questa cosa. Penso che sei intelligente per capirlo, ma se vuoi fare il finto tonto te la spiego. Il fatto è che tu hai detto due volte che non avresti più parlato della Juventus se non in modo saltuario, saltuariamente, ok? Eppure siamo ancora qua oggi a vedere due o tre video, fino almeno qualche giorno fa, video contro la Juventus, contro Allegri, contro la società, eccetera, eccetera. Quindi, su questo però non mi sembra che ti sei mai scusato per il fatto che ne parli ancora. E perché ne parli ancora della Juventus se hai detto che non ti interessa più, che non ti piace, eccetera, eccetera, che non sei più tifoso? E perché soprattutto hai ancora le maglie dietro? Te lo dico io. E lo sa, perché la gente lo ha percepito ormai cosa sai. Tu vuoi fare il finto tifoso juventino con gli interisti, i milanisti e gli anti-juventini che ovviamente sono contenti di uno juventino che parla male della Juventus. Nello stesso momento ci sono degli juventini che, boh, che ti seguono perché magari sono curiosi di vedere, ma questo, cavolo, era della Juve e ne parla sempre male. Io sono uno di quelli e quindi magari per curiosità vanno sotto i tuoi video e commentano. Questo è il mio modesto parere. Poi, sul fatto che quelli che scrivono come mai non parli di Juventus, è ovvio, perché se la Juve ne parli sempre, tutti i giorni carichi tre video sulla Juve e poi il giorno dopo che la Juve ha vinto con il Lecce 3-0 o con la Salernitana 6-1, magari non ne parli, è ovvio che c'è qualcosa che non va. A parte che mi pare che dopo la Salernitana non ne avevi parlato della Juve, però dopo il Lecce, insomma, quando siamo arrivati i primi sopra l'Inter, quel giorno non hai fatto video sulla Juve. E qui casca l'asino. Uno dice, ma hai tanto da dire sulla Juve, ma perché quando gioca bene, che fa risultato, che fa più di un gol, che non fa il cortomuso, che tu odi tanto, non ne parli? E qua la gente pretende un po' di coerenza, a quanto pare. Poi dice, con aggressività, insulti a Nessi... Che cazzo? Scusate, eh. Scusate, ma mi era partita Alexa, mi son preso malissimo. Ok, torniamo a noi. E Hapsic mi sabota Alexa pure. Allora, con aggressività, eccetera, eccetera, anche il mio server Discord è vittima di un palese sabotaggio da parte di molti utenti improvvisamente rivoltatisi contro di me e la community stessa sfruttando qualche pretesto. Io sono andato sul server Discord di Hapsim. Non ho visto più di tanto, però... Non mi sembra che ci siano stati questi attacchi o comunque è semplicemente che la gente si è stufata del fatto che probabilmente il server Discord è intasato da tifosi anti-Giuventini e basta. Non ex-Giuventini, perché c'è... C'è una bella differenza tra essere stato Giuventino e magari criticare la tua squadra e invece avere tifosi vicini, interisti, napoletani che ti insultano ogni giorno la squadra perché sono interisti. È diverso. E a questa cosa, magari ad alcuni Giuventini, può dar fastidio. A te no, perché hai detto che non sei più Giuventino, però a molti può dar fastidio. Questo posto non ha di certo lo scopo di lamentarmi della situazione, bensì serve a due cose. La prima, i mandanti di questo ennesimo attacco che stanno sprecando tempo e soldi, certo, sì. Magari, la gente, secondo te, Hapsim, la gente ha i soldi oggigiorno per andare a fare attacchi mirati verso una persona. Poi non è che tu... Cioè, io voglio dire, scendi dal piedistallo perché ok che hai quei 70.000 iscritti e che non sai neanche te come li hai fatti, però non è che se tu hai così tanti iscritti allora sei il re di YouTube. Ragazzi, cioè, i numeri parlano chiaro. Poi, se pensi che la gente abbia soldi da spendere per andare ad attaccarti, veramente... Tutto questo pur di non fare mia colpa, tra l'altro. Andiamo avanti. Quest'anno, aspetta, sono nell'ottavo anno di attività online e mai nessuno mi ha mai messo un bavaglio su questo. Mai nessuno mi ha zittito, mai nessuno mi ha detto cosa devo dire, mai nessuno mi ha detto cosa devo dire, cosa non devo dire, perciò spendeteli meglio i vostri milioni, addirittura milioni per andare ad attaccare Hapsim. Wow. La seconda, a chi legge da Estrano della Faccenda, che si ricorre a questi mezzi vili e squalidi, vuol dire che ho ragione, che do fastidio, e che dall'altra parte, ambiente juventino e allegriano, tutti i valori dello sport, del calcio e della Juventus vengono sistematicamente calpestati, dunque a voi le valutazioni. Allora, insomma, che dai fastidio sicuramente. Che hai ragione, direi proprio di no. No, infatti dai fastidio perché non hai ragione, perché comunque una fetta di tifoseria juventina vorrebbe che tu tornassi a parlare come una volta della Juve. Però non succederà mai. Io amo il calcio e sono appassionato di calcio, mi fa piacere. Parlerò di calcio e dirò sempre quello che penso. Allegri o meno, Juventus o meno. Sì, appassionato di calcio, ma di calcio ne capisci poco. Chi ama il calcio come me è sempre il benvenuto qui e su Discord. Infatti io ho preso appunto spunto dalla tua frase per iscrivermi al tuo canale e sono contento di far parte di questa fantastica comunità. Quindi leggerò quello che scrivete. Ah, tra l'altro vorrei fare una piccola parentesi. Ho visto che c'è una sezione chiamata Segnalazioni dove un ragazzo mi ha segnalato diversi miei video dove attacco Asim dicendomi che sono un allegriano, giustamente. Questo parla di allegri però dice che non è allegriano. Insomma, non mi interessa però sono contento grazie della pubblicità perché so che il server è seguito e magari, chi lo sa, magari uno o due riesco a convincerli che c'è qualcosa che io non sono allegriano prima di tutto perché se uno si fermasse al titolo ovviamente magari il titolo può essere frainteso e uno pensa che sono allegriano invece non è così. E ovviamente uno ha scritto fa continue frecciatine è vero faccio frecciatine ma non per cercare di attaccare voi che sostenete Asim o Asim stesso lo faccio per cercare un confronto per dire ragazzi lo capite o no che non c'è bianco e nero ma ci sono varie sfumature è solo per quello io faccio solo infatti voi tra l'altro quello che ho visto che mi ha citato molte volte i miei video è uno anche che gli avevo risposto in modo molto pacato e tranquillo sul canale di Youtube ma non solo lui anche altri anche altri che sostengono Asim io ho sempre risposto in maniera pacata ho solamente detto fate attenzione che questo Youtuber non è obiettivo e mi ha deluso insomma io lo seguivo con piacere una volta poi mi ha deluso e non lo seguo più tutto lì non è che ho detto è un coglione non l'ho mai insultato Asim ho detto che sì è uno che gli piace fare soldi però a chi non piace più che altro è che una persona nella vita dovrebbe essere anche un po' obiettiva quando parli soprattutto di calcio poi è vero non è politica e poi soprattutto ecco la cosa di non prenderla prendere così tanto seriamente sul calcio le cose il calcio è un gioco il tifo è una passione quindi perché bisogna sempre essere così pesanti nei video andare ad attaccare etichettare le persone e poi ovviamente uno si lamenta ma questi sono aggressivi e questi è ovvio che siano aggressivi perché quando dall'altra parte non c'è rispetto è ovvio che se manca rispetto manca tutto e quindi la gente si offende e ti attacca probabilmente è questo il motivo comunque dice ho già vinto abbiamo già vinto ok avete vinto bravi gli odiatori e i vigliacchi hanno già perso e non vinceranno mai ecco gli odiatori ecco io ho perso perché sono un odiatore no io non sono assolutamente un odiatore però dico solo le cose come stanno ecco questo è quello che c'era scritto nel post ma andiamo a leggere il commento molto interessante di un abbonato abbonato da due anni sul canale di di afsi che dice testuali parole parlare di complotte di attacco pilotato senza averne le prove è falso sono d'accordo non esiste nulla di tutto ciò se non nella tua mente ecco io parlo per me mi ero stufato di una narrazione fatta col paraocchi bravo ho osato dirlo e subito sono stato bollato risultatista ecco vedete questo è quello che fa la comunità di afsi cioè la comunità di afsi non sa solo etichettare perché la comunità di afsi non riesce a idealizzare un pensiero che non sia da una parte o dall'altra per loro esistono gli allegriani gli antelegriani i buongiochisti e i risultatisti non c'è magari uno che gli piace la squadra e semplicemente gli piace che vinca e magari non è contento del gioco ma gli fa piacere che la juventus vinca lo stesso no se uno la pensa così è allegriano e risultatista questo è quello che ho sempre detto ad afsin da quando ha iniziato il suo da parte mia declino quindi questo è quanto poi dice attenzione per questo è molto grave e tu non hai mai preso posizione in merito anzi mi hai subito dato contro saresti un caso di studio universitario nessun creator spara contro la propria fanbase anzi hai preferito fare il grosso bannandomi dal tuo server discord ma solo dopo che ho postato la disdetta dell'abbonamento a quel punto è veramente dimostrato ai più chi sei ed il tuo modus operandi se paghi sei mio amico altrimenti ti caccio ecco le prove ecco teleutenti paganti che hanno detto cose ben peggiori delle mie sono stati semplicemente mutati per tot tempo io ormai utente non più pagante sono stato buttato fuori dalla porta a calci nel culo me lo sono sicuramente meritato ma prova ad interrogarti sul perché io ed altri utenti ci siamo allontanati più o meno volontariamente l'essere stato un utente pagante non mi dava la libertà di dire quel che volevo e no certo perché quando sei in una specie di adesso prendetele con le pinze questa parola una specie di setta quando tu hai un pensiero che non è comune diverso leggermente diverso dagli altri subito vieni vieni preso vieni come posso dire vieni subito preso in castagna e quindi l'essere stato ok infatti credo di non averne mai abusato il bannarmi è stata una reazione di pancia e sono sicuro che anche altri utenti infedeli hanno subito la stessa sorte per carità vado avanti lo stesso con la mia vita ma mi dispiace molto per te invito tutti a loggarsi nel tuo server in modo tale da farsi un'idea imparziale di quanto è successo là dentro è tutto scritto io voglio dire non ho visto questi messaggi che ci sono stati tra lui e Avsim perché sinceramente non mi interessa sono cose loro io dico solamente sul fatto che dice che quando hai un pensiero leggermente diverso dal suo vieni bannato su questo sono assolutamente d'accordo perché è quello che è successo anche a me non ero un abbonato ero solo un iscritto però intanto sul suo canale non posso più commentare quindi e Avsim risponde con ovviamente come può rispondere una persona umile come Avsim dovresti vergognarti per le affermazioni false che fai e soprattutto per i dettagli a tuo discapito che ometti di riportare questa è la risposta e lui infine da che pulpito bene andiamo nel secondo commento e questo è un altro l'ultimo poi basta questo è l'ultimo iscritto questo è un abbonato da 12 mesi abbonato da un anno e 7 mesi per l'esattezza quindi quasi due anni anche lui e dice anche lui analizzo la frase anche il mio server disc è vittima di un palese eccetera eccetera il sabotaggio io ho pagato 5 euro al mese da maggio 2022 da abbonato dirigente e ti ho difeso infinite volte nei commenti dalle orde allegriane che venivano a prenderti sotto i tuoi video per contribuire alla difesa di certi valori che mi erano stati proposti dalla comunità tua medesima è fin qua quei valori sono semplicemente venuti a mancare lasciando spazio libero invece a faziosi e tifosi medi ignoranti e diseducati autodefiniti anti-guventini di altre squadre che sono venuti nel tuo server a cibarsi e nutrirsi della nostra delusione e dolore per la juve è certo ma è certo ragazzi quando tu fai fai crei questo ambiente tossico è poi normale che uno poi sta male anche a starci dentro non solo a buttare fuori ad attaccare gli altri sta anche male dentro perché perché ovviamente non è diciamo un ambiente sereno felice a quanto pare questo è quello che dice poi dice che lungi dal criticare la juve per il bene della juve e del calcio lo hanno fatto con altre intenzioni propinando quell'antisportività da stadio e da bar che abbiamo sempre condannato del tifo juventino e lo hanno fatto per settimane completamente indisturbati con il passepartout e la immunità diplomatica assoluta che tu le hai concesso del la juve fa schifo basta che dici questo e là dentro puoi imperseverare indisturbato come ti pare anche in totale antitesi ai presupposti valori della comunità ragazzi qui ha detto tutto meglio di così non poteva spiegarlo e questo è un abbonato abbonato da un anno e sette mesi quindi questo è quello che ha detto un abbonato prima abbiamo cercato di dialogare con educazione con questi soggetti da soli e richiamare l'attenzione in vano poi ci siamo iniziati a spazientire tutti vista l'indifferenza totale diventando irritati e insofferenti infine abbiamo cercato di moderare tali individui da soli perché nessuno interveniva infine ci siamo beccati il ban e il time out dal server per supposta aggressività verso tali soggetti antisportivi e provocatori sì Simone abbiamo aggressivamente difeso i tuoi valori cioè pensa te io sarei io sono già deluso nel senso per essere stato uno di quelli che lo seguiva ed essere stato poi bannato e con la possibilità di non più commentare sicuramente avrò detto una roba magari un po' fuori dalle righe magari gli ho detto che era ossessionato gli ho detto qualcosa magari di grave per carità però comunque io non ho mai bannato nessuno perché comunque quando tu fai un certo tipo di proposta nel tuo canale e diciamo dispensi continuamente critiche odio verso una parte di tifoseria una parte di persone e te lo puoi aspettare infatti quando mi insultano che critico Asteam io i commenti non li cancello perché è giusto così perché se io sono fedele a quella persona e per me questa persona va rispettata io la difendo la difendo e mi metto dalla parte di voi che lo difendete ok per quello che io non non banero mai nessuno quindi ragazzi sto morendo di caldo allora finiamo sta roba prima abbiamo cercato di dialogare con educazione con questi soggetti da soli no questo ho già letto le persone ti hanno voltato le spalle perché i valori che ci avevi proposto conditi da disponibilità a supportare anche monetariamente con il tempo passione dedicata per incastrare la vita privata con le live eccetera sono venuti a mancare miseramente non c'è alcun mistero alcun piano o disegno occulto contro di te su cui imparano gli arti o alcuna caccia alle streghe da fare solo tanta farina del tuo sacco da analizzare se mai ce lo farai o vorrai stacci bene ha usato una dialettica a mio avviso perfetta questo ragazzo e purtroppo lo capisco lo capisco perché non è facile ripeto quando stimi una persona e vedere che comunque quella persona non è quella che tu pensi non è facile non è facile ci rimane male anche se questa persona non traspare ma sicuramente ci è rimasto male è stato molto deluso anche perché quando tu contribuisci alla comunità la community in modo anche attivo facendo magari delle offerte abbonandoti e poi vieni preso a pesci in faccia non è sicuramente non è sicuramente bello vabbè poi qua c'è vediamo se ha risposto qualcuno vabbè comunque aveva risposto ok qua dice Simone Afsim dice la tua versione dei fatti è totalmente falsa e lo sai bene ne abbiamo discusso per settimane in presenza di molti testimoni questo tuo commento è volto solo a screditarmi le solite robe che dice Afsim per cui lo lascio qui in modo che si sappia come stanno veramente le cose per chi è onesto e vuole capire e poi va bene dice vabbè qua c'è un'altra che si era lamentata sempre che era abbonata anche lei che era iscritta e poi qua Mattia oh cazzo ho detto il nome vabbè lo scusate ho detto il nome non volevo dirlo ma non importa non ho detto tutto i testimoni sono qua a dire le stesse cose che dico io purtroppo per te ci sono anche montagne di screenshot inclusi screenshot in cui un utente milanista ti denuncia ripetutamente l'impossibilità di stare nel canale della squadra del cuore in quanto invasa dal provocatore interista in cui tu ammetti le provocazioni per poi bannare lui e lasciare il provocatore indisturbato ah oltre al fatto che il server era pubblico ed è stato abbandonato in massa decine di altri ti hanno levato l'abbonamento e l'iscrizione seppur non si faranno sentire ma secondo te è una cospirazione ecco questa è la mancanza di umiltà e di autocritica la verità è semplicemente che è tutta farina del tuo sacco e che le persone si sono stancate di te perché ormai sei completamente scollegato dalla realtà e a malapena comprensibile in bocca lupo con tutto e ciao e questo è la stessa identica cosa che ho detto a lui al tempo la stessa però io l'ho capito prima io l'ho capito prima perché avevo già notato delle cose che non mi piacevano al tempo che non starò qua a ripetere però comunque è così è così purtroppo io se ci fosse un modo per per far capire a questa persona che sta esagerando da tempo ma non è solo affatto perché ci sono quelle persone che sono un po' estreme che sono un po' però quando devono ammettere i propri errori i propri sbagli lo fanno lo dicono probabilmente ho sbagliato un qualcosa probabilmente sono stato troppo aggressivo ho portato delle tesi che non lo so ragazzi io non sono lui e sinceramente non me ne frega di trovare le sue giustificazioni che tanto non farà mai io ero semplicemente per ribadire il concetto che comunque rispetto alla mia community che è piccolissima è minuscola è quello che volete ma io non diventerò mai uno youtuber che attacca la mia community solo perché mi fa delle critiche e soprattutto non vado a bannare gli utenti ecco semplicemente questo poi ovviamente non sono il tipo che adesso io ho preso come esempio AFSIM ma ci sarebbe anche altri utenti di cui parlare se volete vi dico anche per dire a me nati per vincere non lo reputo proprio un vero tifoso però perché è tifoso però anche lui vedo che ultimamente le calcula gli interisti poi tra l'altro ecco tornando ad AFSIM quando c'è una persona uno youtuber come non interista bastardo che fa un video dove ti elogia e cazzo fatti due domande fatti due domande e datti una risposta uno come lui super interista che attacca sempre la Juve che dice la Juve ruba anche quando la Juve non ruba uno proprio interista fissato va a dire AFSIM è un grande un vero Juventino l'unico Juventino che rispetto cioè ragazzi è palese che che sia che sia così ragazzi è così quindi tornando al server discord appunto c'erano questi video queste queste segnalazioni dove c'erano anche i miei video sono stato contento che comunque qualcuno ha notato che parlavo di AFSIM e magari non ne è servito a niente però a qualcuno ho fatto venire il dubbio che stesse già girando però questo non lo faccio ripeto per screditare AFSIM anzi in realtà è l'esatto contrario tutto questo pippotto che ho fatto oggi era per cercare di salvarlo anche se è una cosa impossibile perché il primo che si deve salvare è lui salvare da cosa? ecco questa è la domanda salvare dall'ipocrisia salvarsi da da questi conti da questa ossessione di allegri salvarsi dal fatto di odiare continuamente le persone che non la pensano come lui di etichettare tutti come allegriani risultatisti e soprattutto salvarsi io vorrei che la community iniziasse cioè io vorrei che proprio gli abbonati iniziassero a dirgli guarda che stai sbagliando e sono contento che sia successo finalmente ci è voluto tanto tempo ci è voluta una Juve magari vincente perché io sono convinto che se la Juve avesse fatto cagare come l'anno scorso questo dibattito che c'è stato oggi non ci sarebbe mai stato però comunque c'è stato qualcosa che ha provocato una scintilla ed è stato merito della Juventus ancora una volta e non di allegri o della società o dei calciatori o di Vlaovic è stato merito tra la Juventus e del gruppo e dei tifosi di tutto quanto tutto l'ambiente che ha portato la Juve ad essere ancora in Coppa Italia e ad essere a meno due dall'Inter un lavoro fatto bene fatto da tutti bene compreso l'allenatore che ha fatto in modo che questa Juve dimostrasse veramente che ha le carte in regola quindi chi continua a dire ma io continuo a essere della mia idea rispetto rispetto però sappiate che a mio avviso a mio modesto parere è un po' una stupidata cioè non cambierei mai idea per me è stupido e soprattutto è stupido essere sempre estremo da un estremo all'altro passare sempre da un estremo all'altro quello è tutto ok e quello è tutto male questo è sbagliatissimo quindi questo vi chiedo cercate di riflettere su quello che vi ho detto scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e noi ci rivediamo al prossimo video un bacione e un abbraccio un abbraccio